il piatto più spettacolare di questo periodo prepara la solita polenta con l'aggiunta del latte versa in una teglia aggiungi parmigiano fontina burro e rosmarino lascia raffreddare completamente e taglia in piccoli pezzi in forno a 200 gradi per 15 minuti in forno ventilato e guarda che spettacolo sembra quasi una pizza la ameranno anche i più scettici salva la ricetta e facci sapere se ti è piaciuta manda questo video a chi vuoi che te lo prepari se l'hai ricevuto ti tocca